C'è il sostegno della Regione Abruzzo alla candidatura dell'Aquila per l'organizzazione della 23esima edizione dei campionati mondiali Master di Atletica Leggera, in programma dal 16 al 31 luglio del 2022. L'assessore Silvio Paolucci ha garantito l'erogazione di 30.000 euro per il supporto della candidatura del capoluogo, a cui se ne aggiungeranno oltre 300.000, la stima per l'adeguamento delle infrastrutture e degli impianti, a cominciare da quello di Piazza D'Armi, se a settembre l'Aquila si aggiudicherà la Kermess, spuntandola su Gothenburg-Svezia e Tampare in Finlandia. Ai nostri microfoni l'ex atleta Gianni Lolli aveva dato l'impulso. La Regione ha raccolto tramite il consigliere Pierpaolo Petrucci. L'evento, lo ricordiamo, è biennale. L'edizione 2018 si svolgerà a Malaga, quella del 2020, a Toronto. È un impegno importante per una manifestazione di rango internazionale, ha spiegato Pietrucci, che ha voluto fortemente la candidatura su impulso appunto di Gianni Lolli. Per cui ringrazio l'assessore Paolucci per la disponibilità consolidata e la vicinanza al nostro territorio, ha detto Pietrucci. Lo sport può svolgere un ruolo importante di traino per la rinascita del territorio. Oltre a Pietrucci, Patrucci e Gianni Lolli, alla riunione presso la sede del Consiglio regionale, hanno preso parte anche il presidente del CONI regionale Enzo Impastaro, il vicepresidente regionale della Federazione Atletica Leggera Maurizio Salvi, i funzionari del Comune dell'Aquila, Dino Tarquini e Ramona Cicchetti, il presidente della provincia, Angelo Caruso, che ha assicurato tutto il sostegno possibile nell'ambito delle competenze dell'ente.